Come adeguare le scenografie alle nuove richieste di mercato? È l'inmotiv della mostra To Create, scenografie emergenti, visibile fino al 12 novembre all'ufficio in relazioni con il pubblico del Consiglio regionale. L'esposizione allestita dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino è un viaggio ideale nei meandri della creatività, un percorso che emerge il visitatore nelle suggestioni che prendono vita sulla scrivania dello scenografo. Qui potete vedere alcuni lavori che sono realizzati da una nostra scuola, cioè una scuola all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Torino. Questa scuola è la scuola di scenografia cinematografica, che è veramente all'avanguardia di REI nella nostra città ma anche in Italia. È una scuola che svolge il proprio lavoro attraverso le più innovative tecnologie come il compositing ma anche l'animazione in 3D e si proietta gli studenti verso il futuro della comunicazione digitale e quindi anche proprio dell'arte digitale. Abbiamo deciso di organizzare questa mostra per far vedere come lo scenografo non sia più legato solo alla figura dello scenografo tradizionale ma si leghi a molte altre discipline come la fotografia, l'installazione, l'allestimento multimediale, ma anche il costume e anche per esempio il videogame. Questi sono lavori che abbiamo fatto durante l'anno accademico 2013-2014. Alcuni di questi sono allestiti all'interno del Museo del Cinema. I lavori sono realizzati sulle nuove tendenze della scenografia contemporanea, quindi parlano linguaggi del mercato contemporaneo del cinema. Tutti gli studenti sono in formazione su progetti anche internazionali. Molta parte di questi progetti sono stati realizzati con partenariato della città di Torino, quindi all'interno di sedi museali come il Museo del Cinema, quindi realizzati all'interno di set reali della Mola Antonegliana.